Signori, questi ballerini hanno lavorato due o tre mesi, giusto? Per esibirsi quattro o cinque volte. Gli facciamo un forte applauso a tutti, a tutti, a tutti, a tutti. Si è messa di grande. Il trattorista nobelo. Signori, questa è la corte da vucolo Majorano. Lo Stato. Lo Stato. Come un capo tribù indigeno, colpisce l'Italia, mettendola in pentola. Come se attuasse un rito malefico. Cotti sono tutti gli italiani, sommersi dal potere politico, dalle tasse e dalla mancanza di denaro. Che il rito abbia inizio. Come un applauso anibali colisiamo dal potere politico. Grazie a tutti 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 Buon divertimento Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti This Grazie a tutti 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 Grazie a tutti